La maternità si presta spesso a metizzazioni, stereotipi e polarizzazioni. A noi così va troppo stretta e quindi abbiamo deciso di provare a raccontare la nostra verità. Una verità sulla maternità che non è mai semplice, ma è sempre variegata, complessa, nuda e a volte anche un po' cruda. Questo è il podcast di Mamma Nudo con Frida.